Sembrava potesse essere un percorso più semplice arrivare ad accendere l'entusiasmo sul nome del sindaco uscente Carlo Salvemini attraverso le primarie, ma in realtà così semplice sembra proprio non essere. Le primarie del centro-sinistra stanno realmente entusiasmando che a sinistra vorrebbe un cambiamento. E così a sfidare Salvemini sul banco dei consensi arriverebbero dei nomi che leggiavano già da tempo alcuni, mentre altri tuonano come un fulmine a ciel sereno. Da tempo infatti si parlerebbe di Sergio Signore, vice di Carlo Salvemini, da sempre in campagna elettorale, e poi ci sarebbe Carlo Mignone. Ma siamo stati noi, nelle scorse ore, a lanciare l'ipotesi Sandra Zappatore, direttore Arca Sud. Un'ipotesi questa che ha preso di sorpresa il centro-sinistra, tanto da far saltare un tavolo di confronto che si sarebbe tenuto in gran segreto proprio nelle scorse ore.